18 onorificenze all'ordine al merito della Repubblica Italiana, quelle che questa mattina il prefetto Tommaso Ricciardi ha conferito nel Salone Metaorense di Palazzo Ducale ad altrettante illustri personalità della provincia di Pesaro Urbino. Su tutti i medici, infermieri e scienziati impegnati in prima linea nella pandemia e nella campagna di vaccinazione anti-covid, ma anche amministratori, imprenditori e docenti. Ricciardi ha lasciato il proscenio alla passerella di premiati prima di diventare l'inevitabile protagonista della cerimonia col suo emozionato concedo da Pesaro, visto che fra 15 giorni andrà in pensione. Quello che mi ha più colpito e che rimarrà scolpito nel mio cuore è l'accoglienza, l'accoglienza che ho avuto da tutti e a tutti i livelli. Questo è il ricordo più bello di questa città per me, di questo territorio e poi la possibilità da pensionato di potermi godere un poco questi borghi fantastici, questa entroterra meravigliosa. Nell'occasione Ricciardi ha voluto fotografare anche lo stato della criminalità sul territorio durante la sua permanenza. Abbiamo registrato un aumento in percentuale del 9,14%, ma perché? Perché dopo due anni di stasi dettati dalla pandemia anche i sodalizi criminali si sono un pochettino dovuti fermare, hanno dovuto segnare il passo e tuttavia, come ho detto e come dirò sempre, qui si ha una abbastanza buona percezione della sicurezza. Qui il problema della sicurezza e della criminalità non ha mai fino adesso, e speriamo anche per il futuro, assurdo a livelli di criticità o di drammaticità. È un territorio ben governato, ma soprattutto per il senso di responsabilità che hanno sia il mondo imprenditoriale che la collettività. Applausi per il prefetto, applausi per i cavalieri nominati dal prefetto. Una passerella cominciata con le dottoresse Roberta Bergamaschi e Marta Bianco e continuata col decano delle moto Paolo Campanelli, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli, i medici Eugenio Carlotti, Gabriele Lani e Luca Dascanio, la professoressa Paola Fraternale Meloni, il dentista Salvatore Gallo, la dottoressa Anna Olivetti, la presidente degli infermieri Laura Biagiotti, il dermatologo Fabrizio Valeri, le dottoresse Sofia Bernardini, Cosetta Foschi e Daniela Vandini. Onorificenza di ufficiale per l'ex dirigente dell'ufficio scolastico Marcella Tinazzi, onorificenza di commendatore al dottor Ferruccio Giovanetti, onorificenza di grande ufficiale ad Alberto Dolci e infine medaglia d'oro e diploma di vittima del terrorismo all'ex ispettore di polizia Antonio Cardinali. Ho avuto l'onorificenza di grande ufficiale che è una alta onorificenza e spero di essermela meritata perché mi riempie di orgoglio e effettivamente in una giornata come questa fa veramente piacere vedere tutte queste persone riunite che in qualche modo sono state utili alla società, svolgendo i loro incarichi sia di lavoro che di volontariato. Oggi è stata una grande soddisfazione per noi infermieri vedere riconosciuto nella presidenza dell'ordine di Pesaro Urbino questo benemerito, un benemerito che ricale a cascata su tutti gli infermieri vaccinati che non hanno mai smesso di lavorare ininterrottamente sotto il periodo della pandemia. L'emozione è veramente molta perché è una cosa anche inaspettata e mi fa molto piacere, posso solo dire e spero di meritarmela. Chiaramente nella mia vita lavorativa ho sempre cercato di mettere davanti l'interesse generale e il bene collettivo. Speriamo di esserci riusciti e spero che questo premio, io lo chiamo tale, sia conseguente a quello che ho fatto.